Ben trovati con lo spazio a cura di meteocalabria.net. L'alta pressione sarà la figura barica protagonista dei prossimi giorni. Ci attendiamo quindi dal tempo, con temperature diurne più gradevoli, è freddo nottetempo e dal primo mattino, specie nelle conche vallive. Giovedì 3, generalmente sereno, venti moderati dei quadranti nord-occidentali, ionio crotonese e basso tirreno molto mossi, mossi i restanti bacini, temperature senza particolari variazioni. Nessun cambiamento per venerdì 4 febbraio, permanenza del baltempo, temperature massime e lieve incremento. Bene, per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento.